Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi inizieremo il discorso relativo alle correnti vegetative, cioè riprendiamo praticamente l'intero discorso sul crogiolo dello stragone parlando delle correnti vegetative. Chi ha seguito le trasmissioni precedenti, sempre relative al crogiolo dello stragone, ricorderà che nell'ultima serie di trasmissioni abbiamo fatto due elementi importanti, cioè abbiamo trattato la meditazione e abbiamo trattato la contemplazione. La meditazione, la meditazione fatta dal punto di vista del paganesimo, ha lo scopo di mettere ordine nel nostro pensato, cioè nel flusso del nostro modo di pensare, nel nostro modo di descrivere il mondo, cioè nel flusso delle nostre parole. La contemplazione invece ha lo scopo di proiettare noi stessi verso l'esterno e di incontrare le emozioni e le coscienze dell'esterno. Con invece le correnti vegetative, vedete, abbiamo spostato in due modi l'attenzione, no? Nel primo caso, nella meditazione, abbiamo spostato la nostra attenzione sopra il nostro pensiero, le nostre parole, il nostro pensato, il nostro descrivere il mondo. Con la contemplazione abbiamo spostato l'attenzione sugli oggetti del mondo esterno. Con le correnti vegetative, noi spostiamo la nostra attenzione dentro noi stessi. E sono i tre ambiti fondamentali che vanno a costruire le relazioni fra noi e il mondo. Quali sono i soggetti che entrano in relazione? Entrano in relazione noi, il mondo, il mondo con tutti i suoi oggetti, per cui altrettanti soggetti e il nostro modo, il nostro modo di porci davanti al mondo, che può essere sia all'interno della ragione, cioè all'interno del nostro pensiero e del nostro pensato, sia attraverso la nostra struttura emozionale. La nostra struttura emozionale, che ha tutta una serie di sfaccettature. E lo vedremo proprio parlando delle correnti vegetative. Il termine delle correnti vegetative, torno a ripetere, mi sembrava averlo già detto la volta scorsa, io l'ho assunto, l'ho preso dai lavori di William Reich. Perché? Perché avevo studiato anche quei lavori 30 anni fa. William Reich scoprì praticamente che all'interno del corpo c'erano tutta una serie di formicolii che si possono ascoltare molto bene quando ci si mette a riposo e si può su quei formicolii concentrare la nostra attenzione, renderli più forti, più vivi e quei formicolii servono molto a rilassare le persone, specialmente quando sono stanche, quando si mettono a riposo, quando si stendono. E scoprì che queste correnti servivano proprio a rivitalizzare le persone. Quanto ciò sia importante o quanto ciò sia incisivo, questo non sta a me dirlo. Sta di fatto che io iniziai a studiare questo partendo da Reich e alla fine scopersi che spostare l'attenzione dentro noi stessi portava ad attivare tutta una serie di condizioni che noi abbiamo dentro di noi e che normalmente le persone ritengono mute, cioè ritengono che non esistono. Ultimamente, questa cosa l'ho fatto circa, ho cominciato a fare 30 anni fa, ultimamente la scienza per esempio ci ha detto che all'interno dello stomaco c'è un vero e proprio cervello con una struttura neuronale pari al 10% del nostro cervello centrale. Capite bene che abbiamo un vero e proprio cervello all'interno dello stomaco e questo cervello cosa fa? Non fa altro che mandare dei messaggi, non fa altro che mandare dei fenomeni. I cui messaggi e i cui fenomeni bisogna anche capire a cosa sono legati, per cosa possono funzionare, perché questo cervello elabora quei messaggi e quali sono le relazioni che questo cervello costruisce con il mondo che sta all'esterno. Parlo del cervello ma posso parlare anche del cuore, posso parlare della gola, della tiroide, posso parlare della bocca dello stomaco, posso parlare 4 cm sotto la bocca dello stomaco, posso parlare delle mie membre, posso parlare di tutta una serie di elementi che abbiamo dentro di noi e che noi normalmente ignoriamo, cioè ignoriamo in quanto li diamo come assodati, cioè siamo sordi ai loro messaggi e forse qualche volta sarebbe bene che noi imparassimo ad ascoltare quei messaggi perché potremmo capire molte cose di relazione fra noi e il mondo, in particolare, tanto per buttarla là, il cervello che sta all'interno dello stomaco ha una funzione di riuscire a comprendere, di armonizzarsi, di entrare in situazione empatica con tutti quelli che sono gli alimenti, con tutte quelle che sono le emozioni che da ciò di cui noi ci cibiamo ci arrivano dal mondo e allora possiamo sapere se questo fa bene o l'altro non fa bene. è un esempio che avevo già usato in precedenza quando ho fatto il dibattito, per esempio come facevano i guaritori, le streghe, le antiche persone a sapere che quell'erba gli faceva male o non gli faceva male, che quell'erba poteva intervenire per curare quel dolore che avevano, o quel mal di pancia, o quel mal di testa, o aiutarli per esempio a cicatrizzare le ferite, e lo sapevano attraverso il cervello che stava nel loro stomaco. Cioè se voi andate a leggervi un po' quella che è la letteratura empirica, lei vi dice che gli uomini hanno scoperto l'uso delle piante attraverso la sperimentazione, cioè provando e riprovando. Questo è ciò che vi dice la scienza empirica. Però voi provate un attimino a riflettere e provate a trovarvi a pensare voi stessi in una savana in cui vi arriva un mal di pancia. Come fate voi? Vi mettete a provare questa l'erba, l'altra erba, l'altra erba, sperando che un'erba vi fa bene. Come si fa? Uno che ha mal di pancia vuole che il mal di pancia gli passi. Cioè questo magari ha bisogno di un diuretico, magari ha bisogno di qualcosa che gli stimoli per andare al gabinetto. Per cui ha necessità di un prodotto che gli faccia funzionare immediatamente. Ebbene, come può nascere questo tipo di conoscenza se non l'abbiamo accumulata prima? Questa conoscenza nasce perché c'è un'empatia fra gli uomini o fra gli animali e il mondo che li circonda. E questa empatia data dall'uomo, per esempio, è data attraverso lo stomaco, cioè attraverso l'intelligenza dello stomaco. I gatti quando stanno male vanno a mangiarsi la pianta, la pianta che gli fa vomitare, la pianta che gli aiuta a buttare fuori i peli. Per cui vanno a usare quelle erbe e quelle piante che li fanno bene. Ho stessa scoperta, per esempio, che ha fatto quel tizio del chinino che aiuta a superare la febbre delle malarie. L'ha fatto osservando degli animali, osservando cosa gli animali mangiavano e dove stava la cultura dell'animale, se non nell'empatia che l'animale aveva col mondo che lo circondava. E noi che siamo comunque degli animali, dove sta la nostra empatia? Ebbene, le correnti vegetative ci aiutano a portare l'attenzione dentro noi stessi. Per cui vedremo la tecnica di ascoltare le correnti vegetative e perché ascoltarla. Ma le correnti vegetative, in generale, hanno un altro elemento che è fondamentale ed è il legame che le correnti vegetative hanno con la sessualità. In realtà, tutta la nostra energia vitale, tutta la nostra energia della vita è energia sessuale. Tutto il nostro potere di essere, diciamo così, l'energia che noi amalgamiamo per costruire il nostro corpo luminoso, è energia sessuale. E le correnti vegetative hanno la capacità anche di rivitalizzare quella che è la sessualità. Lasciamo per la sessualità tipo Viagra, tipo questa roba, questo non ci interessa. Parliamo della sessualità nella forma della libido, cioè nella forma del desiderio sessuale e del piacere sessuale, cioè praticamente non stiamo parlando di funzioni meccaniche di Viagra, ma stiamo parlando di questioni della libido. Perché le correnti vegetative vanno a stimolare proprio la necessità di accumulo, di carica, scarica, rilassamento di quello che è l'energia vitale delle persone. Purtroppo, nella società in cui noi viviamo, l'intera struttura sessuale delle persone viene più o meno condizionata e viene più o meno stereopotizzata, no, praticamente fissata in parametri precisi, in parametri espressivi, dove ti dicono quali sono i ruoli, l'uomo, donna, relazioni, come ciò deve essere, ciò che è naturale, ciò che non è naturale. In realtà tutto questo appartiene più che altro a una condizione moralistica, una condizione morale della società e a seconda della cultura e dell'epoca noi abbiamo delle moralità diverse. In realtà la sessualità delle persone è abbastanza semplice, cioè esiste due tipi di sessualità, diciamo così, centrali rispetto al discorso degli esseri della natura. Esiste il piacere della penetrazione ed esiste il piacere dell'avvolgere. Sono due tipi di piacere, uno maschile e uno femminile e spesso i due tipi di piacere sono anche abbastanza separati fra di loro. Spesso il piacere femminile dell'avvolgere, dell'inglobare, del fagocitare, è un piacere che gli esseri umani maschili conoscono abbastanza poco. Perché? Perché di solito si conosce essenzialmente l'aspetto sessuale del possesso, della penetrazione, del questa è roba mia. E gli esseri umani maschili spesso non si renderanno conto che mentre fanno questo vengono avvolti dalle spire di quella che è la sessualità femminile. Cioè in pratica uomini e donne hanno due modi diversi di approcciare rispetto alla propria sessualità. E spesso quando uomini e donne non sono coscienti, non sono consapevoli di questo, e sto parlando di uomini e donne come due stereotipi, come due elementi estremi, diciamo così, della catena, perché poi ci sono tutte le vie mediane, praticamente i personaggi tendono a svilire quella che è la propria sessualità andando a ricercare qualcos'altro. Prendiamo i termini comuni, i termini normali. Sembra che gli uomini siano dei cacciatori di donne, è un termine che è abbastanza normale, abbastanza diffuso. Ebbene, difficilmente, se non negli ultimi tempi, le donne vengono considerate delle cacciatrici di uomini. In pratica, mentre l'uomo ha sempre usato, dal punto di vista dello stereotipo morale, l'appropriarsi della donna attraverso la penetrazione, non ha mai pensato che in quel momento la donna si appropriasse dell'uomo attraverso l'avvolgimento, cioè avvolgendolo. E lo stesso potere sessuale dell'avvolgimento delle donne, cioè della capacità delle donne di avvolgere e inglobare l'oggetto amato, cioè l'oggetto sessualmente considerato e con cui hanno rapporto, le donne non l'hanno mai considerato come un potere, che è in sostanza il vero potere della vita. Ebbene, le condizioni morali che sono state imposte a questo sistema sociale, che chiaramente diviene da altri sistemi sociali di tutti gli ordini monoteista, non hanno mai chiarito in maniera completa quelle che sono le relazioni del piacere sessuale fra uomini e donne. E spesso uomini e donne hanno dovuto piegare il loro piacere sessuale per farlo aderire a degli schemi socialmente imposti o a degli schemi immorali. Bene, questo andava ad indaccare proprio la struttura libica, per cui ciò che veniva frenato, ciò che veniva bloccato, erano proprio le correnti vegetative. Un'altra cosa che andava a bloccare quello che era il flusso delle correnti vegetative, cioè quello che è lo sviluppo dell'energia vitale all'interno delle persone, è l'autocolpevolizzazione, cioè la colpevolizzazione delle persone dei propri adattamenti soggettivi alle variabili che hanno incontrato. Ogni persona ha il proprio piacere sessuale, ma ha qualcos'altro, cioè ha delle fantasie erotiche attraverso le quali va a manifestare il proprio piacere sessuale. Cioè le fantasie erotiche delle persone non sono altro che come la loro libida si è adattata per poter esprimersi all'interno di un contesto che mandava dei segnali, che mandava dei fenomeni, che mandava degli input alle persone. Per cui ogni persona ha in sé delle fantasie erotiche che sono specifiche. Ebbene, questo tipo di fantasie erotiche sono sempre state colpevolizzate, cioè queste fantasie erotiche sono sempre state aggredite dal sistema sociale che attraverso la sua morale, attraverso la sua definizione. Cosa ha comportato questo? Ha comportato che la libido delle persone non poteva esprimersi in maniera compiuta e quando riusciva ad esprimersi in funzione o vicino alle proprie fantasie erotiche, le persone si sentivano impeccato, si sentivano di aver sbagliato, si sentivano colpevolizzate. Tutto questo andava a riflettersi e andava a bloccare la loro energia vitale. E così per tutta una serie di altre cose. Comunque, tutto questo tenetelo ben presente quando parliamo delle correnti vegetative. Perché le correnti vegetative, una delle prime cose che fanno quando vengono ascoltate, dopo alcuni mesi, non fanno altro che aumentare il livello della libido delle persone. Cioè le esigenze, quelle che sono sessuali delle persone. Perché? Perché l'energia della vita, l'energia vitale di cui noi parliamo, non è altro che l'energia sessuale. E quando noi costruiamo il nostro corpo luminoso, plasmiamo il nostro corpo luminoso, lo facciamo attraverso l'energia sessuale. Perché l'energia sessuale è l'energia della vita. I bambini nascono attraverso l'energia sessuale. Le persone si sviluppano mediante l'energia sessuale. L'energia sessuale è uno degli intenti fondamentali delle persone. È uno degli elementi fondamentali dell'essere natura. Per tanto, quando noi parliamo di correnti vegetative, parliamo di sviluppo della struttura emozionale delle persone. E quando parliamo di sviluppo della struttura emozionale delle persone, parliamo di risvegliare tutte quelle che sono le forze all'interno della persona. Per cui risvegliamo le intelligenze interne, risvegliamo con la nostra attenzione tutto ciò che abbiamo dentro e riacceleriamo, risviluppiamo la nostra energia sessuale. E un'altra cosa, infine, tanto per concludere cosa succede con le correnti vegetative, rimuoviamo i blocchi educazionali che vengono sovrapposti alla nostra energia sessuale. Quelli che sono i condizionamenti, quelli che sono i blocchi, quelli che sono le nostre idee a priori che impediscono la nostra energia sessuale di esprimersi nei limiti, chiaramente nei limiti di come viene consentita. Allora, cominciamo a parlare delle correnti vegetative nel dibattito che abbiamo già tenuto qui a Radio Gamma 5. La meditazione ha messo ordine nella ragione. La contemplazione ha portato l'attenzione dell'essere umano nel mondo circostante. Con l'ascoltare le correnti vegetative portiamo l'attenzione dell'essere umano all'interno della sua fisicità. Che cos'è la fisicità di un essere della natura quale noi siamo? Siamo certamente esseri complessi, ma non montiamoci la testa. Siamo esseri costruiti per sedimentazione e conseguente specializzazione delle cellule. Allora, cominciamo innanzitutto a considerare questo concetto del divenuto dell'essere della natura. Gli esseri della natura divengono sempre per sedimentazione, cioè a una struttura biologica, una struttura emotiva a una struttura base si somma a qualcos'altro. Ma quella struttura base si riproduce sempre. Faccio un esempio abbastanza sciocco, se vogliamo. Perché tutti i mammiferi hanno il fegato? Sì, uno c'è più grosso, uno più piccolo, uno per questo, uno per quello, un altro funziona in un certo modo, un altro, un altro, ma non ha importanza. Perché tutti hanno il fegato? Perché la funzione del fegato all'interno di quel divenuto, di quel corpo, è una funzione che funziona, cioè funzionale. Pertanto, tutti i mammiferi hanno le stesse caratteristiche combinate magari in maniera diversa. Perché? Perché quando la natura riesce ad elaborare una struttura, un elemento che funziona, questo elemento diventa primario, diciamo così, si impone sugli altri e si sviluppa. Da quell'elemento che si sviluppa, si sviluppano altri elementi. Cioè, tutta la natura diviene per sedimentazione. E ricordatevi che i fondamenti della natura che noi possiamo considerare in questo momento, vabbè, dopo magari qualcuno mi dirà che sono qualcos'altro, comunque noi li possiamo considerare i batteri e i virus. Dove i batteri sono la struttura del presente e i virus sono la variazione della struttura presente. Senza i batteri i virus non esistono, però i batteri variano in funzione dell'attività dei virus. Dopo magari di questo ne parleremo quando parliamo con gli dei e con Esiodo. Ne abbiamo già parlato in realtà. Queste cellule hanno la loro intelligenza e la loro volontà di adattamento soggettivo. lo stesso vale per i chili di virus e batteri che compongono ciò che noi siamo e che siamo divenuti attraverso una trasformazione di milioni di anni. In pratica il nostro corpo non è altro che una struttura di batteri specializzati che hanno perso la loro dimensione originale ma sono adattati a costruire una struttura complessa. dentro il nostro corpo ci sono chili di virus per cui miliardi e miliardi e miliardi pensate all'infinito di virus che agiscono e si muovono. Non sono chiaramente i virus della polmonite tanto per essere chiari però esistono chili di virus che si muovono. Ma i virus sono dei soggetti che manifestano se stessi e dunque sono dei soggetti intelligenti che ci piaccia o non ci piaccia. Dopo magari scopriamo che il virus dell'HIV si maschera per riuscire a fregare le cellule ma lasciamo perdere un pochetto e ogni batteri che si è mitocondri mi sembra che si dica che si è specializzato è un essere intelligente ma se sono esseri intelligenti hanno una loro vita una loro trasformazione un loro divenire una loro morte e si trasformano in dei. Allora che cos'è che avviene dentro di noi? Noi io dico io sono Claudio per cui ho una coscienza di me stesso cioè ho un'unità consapevole che definisco col nome di Claudio ma attenzione ogni ogni batteria ogni cellula che ho dentro ogni virus chiama se stesso e vive in funzione di se stesso ma vivere in funzione di se stesso significa anche prendersi cura dell'ambiente in pratica ogni battere vive per se stesso e si prende cura dell'ambiente che in questo caso l'ambiente è quello che io definisco Claudio per cui quando parliamo di una singola persona riflettiamo che cos'è una singola persona è una massa di batteri che si sono specializzati nel corso di miliardi di anni per mettersi assieme e costruire una struttura complessa e in questa massa di batteri esistono una massa di virus che vanno a far variare i batteri ma noi abbiamo un'intelligenza abbiamo una volontà e abbiamo una rappresentazione davanti al mondo per cui la nostra azione la nostra intelligenza la nostra volontà viene ad interferire esattamente sui batteri e sulla nostra struttura che abbiamo dentro per cui viene ad interferire la nostra azione anche sulla nostra struttura genetica per cui stiamo un po' rendendo complesse le cose però è bene mettere un po' tutto in chiaro se no dovremmo fare un po' come canta nella critica la ragion pura dove prima di dire una cosa dobbiamo mettere i paletti attorno a quella cosa andiamo avanti ascoltare le correnti vegetative è l'attività attraverso la quale spostiamo l'attenzione dentro di noi quando si è molto stanchi perché ha un po' di pratica non serve essere stanco e ci si rilassa su una poltrona un divano o un letto si percepiscono dei formicoli lungo tutto il corpo come lo scaricarsi di tensioni queste sono le correnti vegetative chiamate in questo modo da Reich che ne ha studiato la presenza degli individui all'interno delle sedute di psicoanalisi in alcuni pazienti queste erano completamente assenti come si ascoltano le correnti vegetative ci si siede su una poltrona comoda e ci si rilassa si elimina il più possibile gli stimoli che dal mondo esterno giungono a noi ad esempio chiudendo gli occhi o trovando un posto con pochi rumori o senza odori ci si rilassa interrompendo il dialogo interno si concentra la propria attenzione sul respiro adeguandone il ritmo una volta raggiunto il ritmo e mantenuto il ritmo si fa scorrere la propria attenzione soffermandola il centro del ventre circa 4 cm sotto l'ombelico la bocca dello stomaco l'organo genitale il cuore la gola al centro della fronte sulla sommità della testa se qualcuno ha un po' di pratica di filosofia orientale questi vengono un po' definiti come i chakra il chakra altro non è che una pompa che comprime e accelera i nostri flussi di energia vitale flussi che vengono compressi mediante la concentrazione dell'attenzione dentro di noi attraverso l'ascolto delle correnti vegetative spostare l'attenzione dentro di noi è un vero e proprio atto di volontà che rende il fluire dell'energia dentro di noi libero da necessità a risposte esterne quando siamo coinvolti o travolti dalle emozioni le correnti vegetative si muovono ma il loro moto è legato alle nostre reazioni soggettive come risposta alle solicitazioni esterne l'agire sul nostro organismo nelle situazioni esterne tende a variare canalizzare accelerare o bloccare in maniera relativa alla sollecitazione i nostri flussi di energia vitale altro non è che il movimento universale di adattamento soggettivo alle variabili oggettive messe in moto dal nostro organismo in base alle sollecitazioni esterne il punto più importante è il chakra sul quale concentrare la propria attenzione è il centro del ventre o il centro della volontà circa 3 cm sotto lo belico alcune discipline orientali chiamano questa attività l'attività finalizzata al risveglio della kundalini la kundalini secondo queste filosofie sarebbe una forma di energia che rimane sopita nell'osso sacro e che è risvegliata dall'attenzione e dall'esercizio risale lungo la colonna vertebrale risvegliando nei punti che abbiamo citato nel corpo e che tale disciplina chiama chakra la collocazione nell'osso sacro è una collocazione assolutamente arbitraria e culturale in realtà questa energia è diffusa in tutto l'organismo perché come pagani facciamo questo esercizio in poltrona o a letto mentre nelle discipline orientali viene fatta in abbinamento allo yoga alle arti marziali che comunque vale sempre la pena di praticarle un sano esercizio giova sempre il corpo e la mente perché come pagani noi abbiamo la nostra arte marziale l'arte marziale madre di tutte le arti marziali noi come pagani viviamo per sfida il vivere per sfida che attuiamo in tutte le nostre azioni quotidiane dalle più complesse alle più banali e usuali il nostro kata kata sono i modelli di combattimento del karate o delle varie arti marziali tanto per usare il linguaggio del karate inizia col primo vagito e termina con gli occhi che abbiamo forgiato mentre guardiamo la morte del corpo fisico esistono delle esecuzioni di kata maestose e delle esecuzioni miserabili ma ogni individuo lo esegue secondo le proprie possibilità e le sue condizioni e con i suoi strumenti il vivere per sfida è attuato in tutte le azioni quotidiane dalle più complesse alle più banali e usuali c'è un aspetto particolare nell'attività di ascoltare le correnti vegetative però per illustrare queste particolarità io sono un po' handicappato nel descriverle perché conosco solo il lato maschile non conosco il corrispondente femminile se no in parte non dovrebbero esserci grandi differenze pertanto le donne si arrangino nella pratica dell'ascolto delle correnti vegetative mentre si ascoltano i vari flussi del corpo e ci si sofferma ad ascoltare dentro di noi si tratta di concentrare la nostra attenzione sull'organo genitale e concentrarvi le correnti in movimento dentro di noi senza rappresentarci immagini o pensieri erotici bloccando il dialogo interno o senza ricorrere a stimoli esterni se il centro se il centro lo stomaco è il centro della volontà la volontà di nascita e di vita legata al cordone umbilicale e ai centri nervosi del plesso solare l'organo genitale l'organo genitale è il centro della natura il nostro essere individui della natura se per un essere umano maschile è facile avere un riscontro palese ed evidente di un risultato fisico da raggiungere diciamo che il pene si inturgidisce credo che sia questo il termine più o meno culturale da usare in un essere umano femminile è meno evidente è maggiore diffusa a parità di situazione psicofisica però c'è un inturgidimento anche dell'organo sessuale femminile però più di questo non posso dire il chakra del sesso è l'ultimo chakra che si spegne nell'individuo ed è il primo che si accende alla nascita la nascita tende a sviluppare questo chakra ilizia tende ad ebe ed è il primo chakra che si riaccende quando un individuo si sottrae alla sottomissione e inizia un percorso di libertà in questo caso inizia ad ascoltare le correnti vegetative perché è il primo chakra che si riaccende perché noi ascoltando le correnti vegetative mettiamo in moto dentro di noi l'energia sessuale ed è la prima cosa che mettiamo in moto nella ricostruzione nel nostro potere di essere torno a ripete energia sessuale che è energia della libido è quella che Freud chiama la libido ed è l'ultimo che si spegne perché la natura prima che l'individuo muore vuole che faccia almeno il più figli possibili per cui la natura in realtà in tutti i suoi equilibri in tutte le soluzioni che ha dato per la vita fa in modo che l'ultima possibilità che l'individuo ha è quella di fare un figlio almeno prima di morire cioè che qualcosa continui dopo queste sono le scelte però della natura quando ci si sottrae dalla sottomissione questo chakra quando in questo caso si ascolta le correnti vegetative e si impara a vivere per sfida si riattiva e mette in moto tutti gli altri chakra e questo è un po' in contraddizione con quelle che sono le teorie orientali cosa succede nelle teorie orientali nelle teorie orientali quando si ascolta Kundalini ma anche si fa meditazione tipo buddista eccetera si va a negare quella che è la sessualità delle persone non solo la sessualità delle persone ma specialmente l'erotismo delle persone cioè le fantasie erotiche delle persone cioè si nega tutto questo e si condanna tutto questo perché fanno questo perché dicono che l'energia sessuale deve essere bloccata per far venire fuori l'energia sugli altri chakra cioè sugli altri punti di forza nell'organismo in realtà questa è una stupidaggine non solo se si nega l'erotismo si non si aprono cioè se si nega l'erotismo si nega sia l'apertura degli altri flussi sia gli altri punti di chakra ma si nega soprattutto la capacità dell'individuo di praticare il carica scarica e rilassamento il carica scarica e rilassamento all'interno dell'individuo è la sua capacità di accumulare energia vitale in pratica l'accumulo di energia vitale è una specie di differenza di potenziale fra il momento in cui l'individuo sta per caricare e l'individuo in cui si rilassa cioè carica scarica rilassamento della tensione sessuale porta a una differenza di potenziale fra l'energia che abbiamo accumulato caricandoci e l'energia che scarichiamo in pratica resta dentro di noi una quantità in più di energia vitale che viene a sedimentarsi sul nostro potere personale cioè sulla nostra energia per cui fare sesso è una cosa fondamentale dopodiché ognuno prende le proprie precauzioni usate i preservativi usate tutto quello che serve ma praticare il sesso è una cosa fondamentale naturalmente esistono delle regole sociali le regole sociali vanno rispettate perché sono i limiti giuridici che vanno rispettati però negare la sessualità significa negare la capacità dell'individuo di accumulare energia vitale e in realtà tutti i buddhisti tutti gli induisti tutti coloro che praticano il blocco del prezi altre cose praticano il blocco dell'energia sessuale della propria soddisfazione sessuale ma anche delle proprie fantasie erotiche chiaramente vanno tutti fuori di testa tutti abbiamo avuto recentemente il Dalai Lama che dice sa mi manca tanto il sesso lo so benissimo ti sei autodistrutto per contro questo chatra rifiuta la sottomissione e spinge l'individuo alla ribellione da ogni forma coercitiva tutte le forme di perversione sessuale che si costruiscono nel tentativo di reprimere la sessualità in ambito cattolico ne sono una dimostrazione lampante anche in ambito buddista visto che Dalai Lama ha dichiarato che gli è molto mancato il sesso anche le zanzare gli danno fastidio visto che dice che non può ucciderle nelle discipline orientali il chakra del sesso è considerato quello basso disprezzato mentre vengono esaltati i chakra considerati alti spirituali come quello del cuore della testa per le discipline orientali il chakra del sesso è quello da evitare questo perché chi pratica le discipline orientali uccide il proprio essere figlio della natura ed esalta una specie di spiritualità che è solo frutto della sua immaginazione proiettata sul mondo chi pratica le discipline orientali pensa che negando il proprio essere figlio della natura si possa elevare spiritualmente la negazione il non ascolto del chakra del sesso forma una serie di vortici di energia vitale stagnata che alimentano per un certo tempo le sue illusioni in pratica non praticare la sessualità non avere rapporti sessuali non fare sesso porta alla stagnazione dell'energia sessuale la stagnazione dell'energia sessuale provoca dei vortici dell'energia che cortocircuita su se stessa e persone che non praticano la sessualità sono prenda di allucinazioni di voglie di illusioni di immagini di sogni molto vividi che li riconducono e li riportano alla loro sessualità ebbene queste illusioni queste immagini e questi sogni molto vividi gli induisti buddhisti i cattolici stessi tendono a scambiarli per messaggi del loro dio messaggi del loro profeta o qualcosa di altri monti in realtà è solo energia vitale stagnata che sta cortocircuitando su se stessa negando la sessualità si rendono i sogni molto vividi e le allucinazioni molto intense ma non si tratta di una maggiore percezione ma di una necessità soggettiva di usare la propria energia dopo di che il corpo inizia a morire inteso come autoannientamento la modificazione prodotta dall'ascoltare le correnti vegetative sul chakra del sesso produce un risultato che non è localizzato su una sfera sessuale ma all'intero organismo e all'intera vita quotidiana in cui di volta in volta concentriamo la nostra energia e qui c'è anche un altro discorso da fare visto che sono arrivato a questo punto c'è discorso da fare sul scarico dell'energia cioè la nostra energia vitale la nostra energia sessuale noi la accumuliamo nella nostra attività quotidiana e la scarichiamo in tre modi cioè la scarichiamo attraverso il nostro lavoro fisico sport lavoro lavoro attività fisica in generale la scarichiamo attraverso la nostra attività sessuale e la scarichiamo attraverso l'attività intellettuale cioè il pensiero astratto queste tre modi per scaricare l'energia sessuale devono agire assieme cioè noi dobbiamo scaricare l'energia fisicamente cioè dobbiamo avere un'attività fisica dobbiamo avere un'attività astratta cioè un pensiero astratto un pensiero mentale un pensiero forte che agisce in astratto e dobbiamo avere una pratica sessuale non possiamo negare nessuno dei tre capisco che una persona dice io sto in galera io non posso fare sesso a parte il fatto che tutto si può fare e tutto poi è interpretabile però queste tre cose sono fondamentali per riuscire a vivere e riuscire a costruire il nostro potere di essere dobbiamo sia avere un'attività fisica sia un'attività mentale sia un'attività astratta sia un'attività sessuale dopo come sia attività sessuale a me non interessa quale sia il pensiero astratto affare delle persone quale sia l'attività fisica è un affare delle persone non sto dicendo cosa si deve fare ma queste tre attività devono essere fatte in contemporanea il chakra del sesso è il fine di ilizia la nascita e si esprime in ebe gioventù che si apre alla maturità dell'individuo la sessualità di ogni individuo viene piegata e adattata alle condizioni culturali nelle quali quell'individuo nasce e si adatta date delle condizioni socio-culturali la sessualità di un individuo è abituata a rispondere a delle solicitazioni esterne erotiche le emozioni che l'individuo manifesta su queste solicitazioni esterne sono il dialogo interno relativo alla sua sessualità come il dialogo interno spiega la nostra percezione del mondo ai fenomeni descritti dalla ragione così le solicitazioni erotiche esterne tendono a piegare la nostra sessualità è quasi impossibile sottrarre la nostra sessualità dagli adattamenti che nel corso della vita specialmente per individui adulti ha costruito nell'espressione di se stesse in relazione con il mondo ma è possibile scindere i nostri adattamenti espressivi della sessualità dalla forza di scorrimento dell'energia relativa e questo può essere fatto concentrando l'attenzione sul chakra del sesso ed eliminando le solicitazioni esterne allo stesso tanto più una persona è giovane tanto più facilmente riesce tanto più una persona è legata a stimolazioni sessuali esterne spesso dovute alle proprie predilezioni o al proprio vissuto a maggiori difficoltà si tratta di adattamento della propria sessualità alle stimolazioni offerte del sistema sociale attraverso il sistema educazionale subito se fate un piccolo discorso guardate adesso la televisione e avete degli stimoli di natura sessuale di un certo tipo le persone che hanno 60 anni si ricordano com'era la televisione di 40 anni fa e sanno che avevano altri tipi di stimolazioni molto diverse e con questo tipo di pratica che sting si è vantato per mesi delle sue prestazioni erotiche adesso le sta pagando allora ora non lo fa più perché il tutto si è ridimensionato pagando un prezzo questo appartiene a sting appartiene a quando ho scritto un po' questo dibattito il vero nocciolo è che l'energia sessuale l'energia fisica l'energia intellettuale l'energia emozionale è sempre la stessa energia che noi concentriamo per fini situazioni e parti fisiche diverse a seconda del nostro intento attraverso le nostre azioni noi riversiamo nel mondo la nostra energia per attingerne a nostra volta in altre parole non si tratta di un viagra o di una dose di cocaina si tratta di imparare a concentrare la nostra energia attraverso le correnti vegetative là dove serve per quel che ci serve quando siamo sdraiati e rilassati che ascoltiamo il corpo dentro di noi è facile ovvio e piacevole concentrare l'energia sulla nostra sessualità il punto che deve essere sottolineato è che l'individuo nel fare questo guida le proprie correnti vegetative per un fine il che significa che l'individuo sta imparando a guidare le proprie correnti vegetative in relazione a se stesso e non solo come risposta a sollecitazioni esterne così quando dovrà affrontare problemi in natura fisica intellettuale e emozionale le finalità che si prefigge coinvolgeranno in quel senso la sua energia i chakra relativi pomperanno per quei fini la nostra energia e qui con il discorso delle correnti vegetative per oggi mi fermo diamo un attimo se riesco a trovare qualcosa con cui niente non c'è sì allora mi fermo qui vi ricordo che il prossimo giovedì io in trasmissione non ci sono e continuerò questo discorso fra 15 giorni il prossimo giovedì ho il turno pomeridiano di lavoro e purtroppo non posso essere in radio anche perché sto accumulando per cancellare tutta la quantità per recuperare un po' di ferie che ho fatto ad agosto bene siamo arrivati alla fine per quanto riguarda le correnti vegetative e questo è il discorso del risveglio dei chakra dentro di noi e non mettetevi in testa che per svegliare questo punto o l'altro punto servono chissà quali esercizi a testa in giù o a testa in su in realtà serve ascoltare quello che abbiamo dentro e riportarlo alla nostra coscienza usando la nostra attenzione va bene metto via il tutto e apro una notizia stampa di oggi e mentre faccio questo esercizio di muscoli perché voi non sapete ma io ho dei contenitori che pesano quasi 5 kg l'uno con tutti i dati con tutte quello che ho scritto e con tutte le notizie stampa e mi apro il contenitore relativo relativo alla rassegna stampa intanto ho messo via quello del crociolo dello stragone e tiro via quello della rassegna stampa perché ho una piccola notizia che si lega al discorso che abbiamo fatto oggi vediamo un attimo se riesco a trovarla ecco l'ho trovata e intanto che vi leggo questa notizia che è tratta dalla Repubblica del 13 ottobre 2005 si intitola il segreto della longevità è l'equilibrio fra ambiente e geni la longevità non è racchiusa in una formula bene intanto diamo via le telefonate vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838 andiamo pronto ciao 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 a proposito finché mi viene in mente eh a proposito del sesso no eh fare sesso se poi diciamo che c'è possibilità di sublimare l'attività sessuale se in mancanza diciamo di allora mi non dico come che adesso ha fatta l'attività sessuale delle persone cioè a me non mi interessa se le persone la fanno fra due uomini fra due aspetta fammi finire fra due uomini due donne un uomo una donna una donna un uomo oppure si masturbano oppure si fa cioè questo appartiene alla singola persona l'importante è che ci sia libido capisci cioè non tanto là gli atti appartengono alle singole persone anche alle condizioni cioè c'è una persona un poveraccio che sta in galera no in una cella cosa può fare o si mette insieme in do oppure fa da solo cioè capisci ma l'importante è la questione della libido capisci sviluppare la libido esatto soddisfare la libido certo dopo la pensione l'elettricità dopo di che chiaramente quando puoi fai quello che puoi quando invece ti è possibile avere delle relazioni che ti diano anche una soddisfazione rispetto a fantasie erotiche o altre cose va ancora meglio capisci interogabili insomma certo questo no questa è la vita altrimenti non saremmo neanche individui della natura cioè la natura si sviluppa per sesso e basta c'è un dato di fatto capisci non è che possiamo far finire di niente vabbè dopo ci sono tutte le condizioni morali c'è l'attenzione anche perché purtroppo viviamo in una società dove proietta anche molte violenze sopra molte cose anche stifose capisci naturalmente viene bloccata viene e poi va e stopa e certo c'è un'altra notizia che ha detto che a Hollywood non ha mai fatto un film con preservativo insomma sentivo come sentivo sentivo anche te è allucinante insomma e comprime tutto certo questi tabù esatto con i tabù praticamente blocchi l'energia e si trasforma in energia di morte e vai verso il suicidio e dopo il casini esatto il tosetti che non sa più come comportarsi oppure giovani che non sanno come comportarsi esatto e dopo succede esatto esatto dopo nasce il disagio sociale ma comunque questo ormai fa parte della letteratura della psicanalisi è ormai acquisita tutta sta roba non è che sia una roba nova 100 anni 120 anni esatto ok ciao bello ciao ciao il problema il problema della sessualità è solo uno farlo e basta non c'è che ci sia chiaramente ogni persona dovrebbe essere attrezzata per affrontare le contraddizioni che tutta la vita comporta però tu mi ripeto spesso sopra la sessualità si gioca il controllo delle persone si gioca il potere di soggiogare le persone e infatti tutta la morale tutta la morale cattolica e anche quasi tutte le religioni rivelate giocano molto sulla sessualità quello che è il velo alle donne quello che è il ciador tutte queste cose vengono usate proprio sulla sessualità per bloccare le relazioni interpersonali attraverso l'uso della sessualità quello che è per esempio l'infibulazione quello che era quello che è la circoncisione sono tutti anche atti fisici che vanno ad incidere sulla struttura sessuale delle persone che vanno a castrare anche fisicamente la struttura delle persone se dobbiamo renderci conto di questo esistono chiaramente tale fisiche tale psichiche che vengono imposte attraverso la struttura educazionale attraverso la manipolazione mentale però torno a ripetere è un problema che un pagano poeterista deve liberare deve agire bene allora io chiudo qui a termisola magia stragonaria e paganesimo visto che questo articoletto non sono riuscito a leggerlo comunque ve lo leggerò un'altra volta tanto sono tutti articoli che entrano a far parte nella dimostrazione dell'attualità del crocello dello stragone e vi do appuntamento per giovedì fra 15 giorni per il discorso sulle correnti vegetative la sera e durante il giorno poi andrà via altre cose un ringraziamento naturalmente a tutti i pagani per la statua che abbiamo alzato sull'altare pagano e niente è là e sapete quello che stiamo facendo quel lavoro che stiamo facendo il primo altare pagano naturalmente è già stato alzato e naturalmente verrà addobbato e verrà sistemato per quello che secondo noi deve essere ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo ciao giovedì fra 15 giorni giovedì troverete Francesco ciao grazie a tutti